E infatti io sono pronto ad abbeverarmi alle fonti delle conoscenze del nostro professore Marco Camisani Calzolari, che io accoglierai con un grande applauso e che ci racconterà un sacco di cose. Ma sì, delle cose, eccomi qua. Allora, aspetta, devo salutare quelli in streaming? Sì. Amici follower? No, perché? Sennò ti rimangono anche male. Vado? Vado, eh? Ah, ringrazio. Allora, di che cosa vi parlo oggi? Vi parlo di questo, cioè del presente che qualcuno chiama futuro. Perché stiamo vivendo in questo momento già in quel futuro che alcuni in realtà non hanno capito che in realtà è già presente, questo è un po' il punto. Allora, ho detto facciamo una carrellata su quello che sta succedendo nel mondo del digitale, nella vita di tutti, nella vita nostra, no? Perché poi alla fine ci tocca sia come professionisti, sia come persone, sia come padri e figli e nonni anche, perché no. Allora, io come sapete faccio questo di lavoro, quindi cerco di togliere i tastini che non servono, di semplificare, chiaramente per semplificare bisogna poi conoscerlo tutto il telecomando, se no non sai cosa togliere. Dicevo, è un mondo nuovo che per alcuni risulta un po' complesso, o no? Cioè è un po' che uno dice, però è sempre più difficile, sono arrivato a imparare un pezzo e poi dopo, ma io non ci riesco tantissimo, no? E allora per incoraggiare chi fa un po' più fatica ho portato lui, perché se ci riesce lui, a usare, ma io con il touchscreen non mi trovo tanto, se ci riesce lui ce la possono fare tutti, ok? E poi è vero o no che un'altra cosa che succede è che siamo tutti, adesso no, ma di solito siamo tutti lì attaccati un po' al smartphone, guardiamo le cose, andiamo sui mezzi pubblici, cioè non parla più nessuno, nessuno comunica, però non è che una volta era diverso, cioè alla fine più o meno non è cambiato tantissimo, è il mezzo che cambia, no? Però poi alla fine quello che si fa è sempre lo stesso, in ogni caso alla fine diciamo lo usiamo un pochino tutti, no? Dipende un po' come, in che modo, per fare che cosa, c'è chi non ha capito tanto bene, c'è chi esagera con i selfie, per esempio io degli amici che fanno i radiologi e che hanno esagerato, no? Perché a volte, no? Cioè, però scherzi a parte, veramente è un qualcosa che riempie le vite di tutti. Questo è un homeless che è comunque, come dire, incredibilmente, no? È strano, no? Diciamo come un homeless con un device da 500 pound. Probabilmente quei 500 pound una volta li avrebbe spesi in un altro modo, lì dentro è un mondo separato, un'immagine forte che però fa riflettere su come oggi, no? Il mondo digitale può entrare a far parte della nostra vita. Nel frattempo delle cose sono cambiate, erano fatte in un modo e non ci sono più. Pensate solo a chi si ricorda Blockbuster, tutti, no? No, no, non c'è più. Io peraltro mi sono trovato, non per fare il fenomeno, ma proprio a parlare con il management allora, dicendo, guardate ragazzi che qua bisogna fare un'altra roba, eccetera, non mi hanno più chiamato e questa è un'insegna di Blockbuster rotta con uno che, sai, nella polvere come nella macchina, lavami, lol, che vuol dire risate pazzesche da ridere, Netflix. E questo perché? Perché è successo questo? Perché c'è un problema. Noi tendiamo come essere, abbiamo un bug come i computer. Scusate, ogni tanto ho delle slide dell'inglese, ma fate finta di niente, io vi dico in italiano, non che non vi manchi l'inglese, poi siete tutti ingegneri, altro che, però era giusto per, abbiate pazienza a questo doppio, perché a volte ne faccio in inglese, a volte in italiano ho slide, ti prendo, metto in mezzo. Abbiamo sempre fatto così. È un po' il nostro bug, siamo tutti un po' bugati, perché ci troviamo comodi, no? E in più, se una cosa funziona, tu la continui a fare, no? Avete presente il film sul cambiamento climatico, che non è il mio tema, ma, insomma, è faticoso cambiare quando apparentemente va tutto bene. Eppure, se andiamo a vedere, adesso non entro mai nel dettaglio del design, ma per capirci, solo nel 2005 questi loghi qua, dei big, di una volta erano i numeri uno e oggi sono completamente cambiati, cioè i grandi big sono altri. E quindi tutti quelli che hanno sempre fatto così hanno un po' perso il treno, perché nel frattempo tutto cambia. E poi a volte la cosa strana è che non si vede. Cioè una volta il tuo negozio a fianco era il tuo competitor, quello lo rinnovava e tu dicevi, aspetta che lo faccio anch'io. Adesso succede in modo distribuito in tutto il mondo, non è una cosa che si vede subito. E anche quello che vedi non è rappresentativo, perché noi conosciamo il mondo attraverso i social network e quello che vedo io non è quello che vedi tu, quello che vedi tu non è quello che vedi tu, ognuno vede un pezzo diverso. E' faticoso capire cosa sta succedendo fuori dalla finestra. E quindi dove stiamo andando? Allora stiamo andando, come faccio i 40 minuti? Però proviamo giusto delle immagini veloci, un escursus veloce. Allora sicuramente non questo tipo di auto che si guidano da sole, ok? Non sarà proprio così. Però diciamo si va verso l'automazione di tutta una serie di cose. E non c'è niente da fare. Questo è un futuro, non si ferma. Cioè a prescindere da, come dire, le resistenze che può avere chi si occupava del passato, nulla contro i taxisti, ma in questo momento ad esempio rappresentano l'esistenza verso, no? L'auto che si guidano da sole, dicono che perdono il lavoro. E ci hanno ragione, perché fino a ieri era così. Quindi in teoria dovrebbero cambiare. Siamo tutti un po' spinti a cambiare. E si va verso questa strada perché costerà meno, perché sarà tutto facilmente automatizzabile, perché sarà più comodo, perché si potrà aggiornare a distanza, perché sarà più comodo per chi produce, per tutta la filiera fino ad arrivare ai cittadini. Poi il turismo virtuale, ma c'è di più, no? Ovviamente non c'è solo questo, è proprio un mondo di realtà virtuale, eccetera. Che attenzione però, questo piccolo inciso. È un momento in cui, io sono molto attento su questo tema, la stanno vendendo, overselling come dico gli inglesi, cioè stanno vendendovi una cosa che spesso non esiste, non dico sempre. Cioè quindi quando sentite le parole metaverso, web3, in effetti collegati, non è che dietro non ci sia nulla, ma molto probabilmente chi ve ne sta parlando non sa bene di cosa sta parlando, ma non perché io sono... E cerca banalmente di sfruttare l'hype, di sfruttare questo momento, questa bolla, questo interesse che c'è, quindi di fare un po' di speculazione. È un mondo molto di speculazione. Quello che veramente invece succederà, non ci sarà questo metaverso diffuso, senza controllo, eccetera, ma sicuramente, così come abbiamo visto prima, che quella persona homeless aveva la vita, una vita, come dire, intera, completamente digitale, alternativa a quella fisica dove era in difficoltà, avremo delle cose, cioè sarà facile, molto probabile, che l'esperienza di un viaggio turistico sia così piena, anche se non uguale a quella fisica vera, per cui chi potrà permetterselo viaggerà fisicamente, ma la massa viaggerà digitalmente. E questa differenza sarà sempre meno percepita, perché aumenteranno sempre di più le qualità, ma alla fine sarà tutto, arriverà tutto da, probabilmente come è sempre successo anche per altre tecnologie, da grandi aziende. E poi Big Data è già qui, è già oggi, grandi dati, siete ingegneri, lo sapete, da gestire nel modo migliore e a volte non serve più l'umano, ma dove bisogna creare sistemi che gestiscano i dati, che imparino a gestire i dati, il machine learning, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale, che come probabilmente molti qui sanno già, è ancora lontana da venire, è più mondo machine learning, quindi macchine che imparano da quello che gli arriva, fino ad arrivare anche a cose che toccano noi umani, organi stampati, ma tutte cose, come dire, che non sono più, sono cose che già avvengono, pensate ai microsensori, nanosensori nel corpo che permettono di fare delle cose, siamo, la tecnologia è lì, è lì fuori, semplicemente non è ancora distribuita equamente, come diceva Gibson, perché non lo sappiamo, perché è lì. Pensate ad esempio oggi ad un malato di Alzheimer, quanto, scusate se, ah no, vedete da lì, con un dispositivo che alla fine, no, ha dentro dei microprocessori simili a quelli che abbiamo nei nostri smartphone, che gli permette di mangiare in modo, come dire, no, piuttosto che chi non ha un arto può, in questo caso non ha la mano, insomma, un braccio, può arrivare fino ad allacciarsi le scarpe, cioè sono cose oggi disponibili e anche a prezzi accessibili, perché non sono più cose, come dire, cose nel mondo della ricerca, ma sono nel mondo ormai del commercio, sono in commercio. E poi c'è l'evoluzione dell'industria, che come sapete, ormai anche qui attenzione a tutte le varie buzzword, come sapete, per cui di impresa, di industria 4.0, e di relativa impresa 4.0 si fa da anni, poi in realtà nella reale applicazione, poi come sapete, per chi si occupa di ingegnere industriale, si tratta poi di applicare e di portarsi a casa i dati e renderli utili a qualcosa a proposito di big data, e lì la questione si fa molto più complessa, ma anche lì sapete che è presente, si parla di presente. E ci sono tutta una serie, come dire, a proposito dell'intelligenza artificiale, di questioni importanti. Per esempio, il machine learning è già nelle nostre case, a proposito di futuro, di presente, che qualcuno chiama futuro, pensate banalmente a Siri e Cortana, che sono gli assistenti vocali, che capiscono quello che diciamo, non mi venga troppo a volte, però cercano di capirlo, e rispetto a quello che sanno di noi, ci danno delle risposte. E già questo è il presente, piuttosto che quando Facebook ci raccomanda la foto di qualcuno, riconosce la faccia e dice, guarda che quello lì è il tuo amico, e quello è già presente. Allora, la tecnologia, se non fosse, amici, se non fosse perché le batterie sono ancora il grande punto debole al momento dello sviluppo della tecnologia, perché la miniaturizzazione, sapete che è già qua, e oggi avremmo facilmente una lente a contatto che guardandovi, ma in commercio, mi permetterebbe di avere un fumetto sopra la vostra testa con il vostro profilo di Instagram e chi lo desidera mi fa vedere anche come si chiama e se ci siamo mai già incontrati. Ma non è futuro, sarebbe già qua, è solo colpa delle batterie. Adesso quando questa questione sarà risolta vedrete che ci sarà un picco di applicazioni di questo tipo. Piuttosto che quando Amazon raccomanda prodotti simili, prodotti che dici, ma è proprio quello che vorrei, e lo fa solo per noi. Piuttosto che la pubblicità, no? Quando ci arriva verticale, eccetera. O Waze, o i navigatori che ci suggeriscono la strada migliore. Io sono un tecnologo e quindi tifo per l'umano. Cioè, che cosa hai detto? No, sono un tecnologo e tifo per l'umano. Ovvero, mi occupo di tecnologia, voglio governare la tecnologia e voglio che voi governiate la tecnologia affinché si sia sempre padroni della tecnologia. Perché la conoscenza, come sapete, ci rende poi capaci di gestire. Infatti la cosa che fa più paura a chi è lontano dal digitale è proprio che è giustamente la paura di non averne il controllo. E lo capisco, sarebbe terribile. Ed è per quello che io studio continuamente tra le motivazioni che mi spingono proprio perché, eh no, non deve vincere lei. Ma io sto dalla parte vostra. Quindi ecco perché mi piace tanto divulgare. Perché dobbiamo, non devono vincere loro. Anche perché dietro è pieno di furbacchioni, quelli che va a chiappare anche il nostro Moreno Morello, che ne approfittano della vostra scarsa conoscenza di questo mondo per... o vivendono l'ultima bufala del, che ne so io, del Web 54 piuttosto che il triplo metamondo. Tra questi temi c'è il tema del lavoro che è influenzato tantissimo da quello che sta succedendo. Quindi sappiamo che la metà dei lavori attualmente negli Stati Uniti è a rischio di essere sostituito da sistemi di pseudo-intelligenza artificiale, robotica, eccetera, eccetera. Bisogna fare qualcosa. Cosa bisogna fare? E alla fine ci arriva dunque la cultura, la conoscenza, risolve perché? Perché è già successo con le altre rivoluzioni industriali. Cioè cambieremo lavoro, non è che rimarremo a casa. Anche se a tendere, guardando molto molto lontano, potrebbe essere che effettivamente le macchine potranno lavorare per noi. Ma c'è un pericolo, ovviamente. E il pericolo è che decidano loro. E che si occupino loro di noi. E che ci sia qualcuno che le possiede. E che quindi sia in qualche modo un po' padrone della nostra vita. Proprio come succede nei film. No? Col cattivo che, ah ah ah, evita. Se avete visto l'ultimo Kingsman, c'è il cattivo che distribuisce gratuitamente, cattivo, il pazzo, che distribuisce gratuitamente cellulari con sim, completamente free. Non è il caso, no? Non siete ancora pronti, no? Ok? No, amerti che stasera facevano l'annuncio. E poi però, a quel punto, hanno in mano. Vabbè, lì c'è fiction, quindi comanda anche i cervelli, tutte queste cose che ancora non si fanno. E che permettono di, nel caso del cattivo, al controllo sulla popolazione. E ci sono dei lavori che non saranno il dentista, per esempio, anche se c'è il robottino che arriva e fa... Però richiede tutta un'esperienza, una complessità, dove piuttosto che il terapista ricreazionale... Cos'è il terapista ricreazionale? Vabbè, no? E invece altri, tipo appunto i piloti commerciali o gli operatori di macchina, ciao, miau, perché già gli aerei sono abbastanza sicuri, ma lo saranno... I pochi incidenti che ci sono sono dovuti a errori umani, per cui con quel caso si va a risolvere. E sarà molto probabile che si andrà in quella direzione, per non parlare dei dattilografi, chi scrive, i venditori di case. Sì, adesso non so il perché, ma probabilmente saranno molto istituiti, piuttosto che... I technical writers, quelli che scrivono documenti tecnici, ma come? Eh sì, perché su quelli tecnici, l'intelligenza artificiale, dicevo pseudo, perché non esiste ancora in realtà, ma diciamo il machine learning avanzato è proprio bravo. Cioè, ormai esistono servizi distribuiti dove paghi 12 dollari al mese, che gli dai quattro temi e scrivono dei pezzi interi, seri, liberi da plagiarismo, come dire. Tutto questo però ha delle implicazioni legali. Mamma mia! Avete presente? Di chi è la responsabilità quando un'intelligenza artificiale sbaglia? Di chi l'ha programmata? Dell'azienda che la possiede? Di chi? Di chi è interagito? Di sicurezza? Non è neanche da dire. C'è un software che in realtà sta guidando qualcosa. Ogni cosa che dico mi debutto in una lingua perché se no diventa un libro ogni volta, ma pensate se domani la democrazia dovesse passare attraverso delle macchine. Pensate al voto elettronico per esempio. Basta un click, basta che uno centralmente faccia così e improvvisamente si ribaltano le cose. Molto pericoloso dare potere alle macchine. E quindi la sicurezza è sia quella dell'automobile che non deve andare a sbattere e che si guida da sola, ma anche di questo tipo. Implicazioni etiche. C'è un dilemma famoso dove c'è l'automobile che si guida da sola che si trova in una condizione in cui, ipotizziamo, o va a sbattere e quindi si schianta contro un muro in un momento di difficoltà e muore il passeggero. O uccide un bambino piccolo o una vecchietta. Che si fa? Cioè il programmatore deve dirla sta cosa. Chi lo dice? Cioè chi è che lo decide? E quando ha operato la scelta? Di chi è la responsabilità? Cioè sono temi grandi. La governance. Quindi che tutto questo abbia dietro un impianto legislativo serio. E quindi che i politici siano in grado di scegliere autonomamente e non perché ci sono lobbisti ricchi che li mettono nelle condizioni di scegliere. o perché banalmente non gli ne frega nulla perché ho visto recentemente la foto di un ministro della Repubblica sì, della Repubblica un ministro con che aveva una scrivania completamente con carta di oggi foto di una settimana fa non c'era un computer sulla scrivania è pesante voi dite ma magari è capace ho capito ma gli manca un collegamento con il mondo è un problema serio che fa mandare la mail della segretaria e poi temi legati alla privacy perché voi dite ma che mi frega me della privacy se non ho niente da nascondere ho capito ma in realtà diventiamo burattini nelle mani di chi ci conosce molto bene. Pensate che il garante della privacy è appena multato per 20 milioni di euro che è niente Clearview in Italia questo che è una società perdonate il refuso che è americana specializzata in software di riconoscimento facciale potenziato dall'intelligenza artificiale cioè in sostanza vengono utilizzate dalle varie polizie del mondo potrei anche dire veri bene ma poi però la stessa azienda vende un pochino a tutti allora io dico io vado in giro e questi sanno dove sono cosa faccio chi però lo sa perché lo sa cosa ci deve fare no? E allora dobbiamo fare attenzione perché questo può essere un rischio ma non è tanto per essere lasciati a casa perché se andiamo a casa a fare quello che ci piace e diventiamo tutti artisti magari va anche bene ma il problema è chi comanda poi questi signori no? perché questo è un altro rischio bene dice no però adesso hai qualche notizia positiva magari sì magari magari arriva non ne so vediamo vediamo come va vediamo come va le aziende pure loro pure loro pure loro io da qualche anno per ragioni varie non so spiega mi interessa comunque insomma ho venduto due aziende che avevo non faccio più il consulente insomma sono mi occupo solo praticamente di divulgazione ma quando lo facevo avevo questo problema qua che io considerate sono 30 anni che faccio questo mestiere quindi ho visto proprio arrivare il primo browser web mentre lavoravo solamente facendo questo quindi per ogni stato come programmatore e così via ma questo è un problema perdonate la risoluzione grafica ma è antica cioè tu vai da quello con le ruote quadrate scusa Larsen tecnici sorry da quello con le ruote quadrate e gli dici guarda che ci sono le ruote ruote rotonde e gli dici guarda togliti perché già stiamo facendo una fatica pazzesca a tirare sto carretto è un po' così e poi a volte si progettano cose pensate questo soprattutto la pubblica amministrazione lo sapete perché però la pubblica amministrazione siamo noi cioè siamo tanti ci abbiamo a che fare tutti pensate per chi le fa non per chi le deve usare no? gli dici guarda per me devi passare da là e dici si capite però è più comodo di lì e la gente va di lì e qual è il problema? che c'è chi fa il prodotto per andare lì è questo qua e magari quello che fa il prodotto per andare lì è in Cina è in America è in Israele è in Bù ok quindi non è più qua dietro e questi slide hanno veramente dieci anni le prossime perché mi fanno mi piacciono tantissimo perché voi avete a che fare tutti con aziende prevalentemente perché questo è il tipico prodotto Google questo è il tipico prodotto Apple e questo è il sito delle aziende che conosciamo ma perché ma perché c'è un ah scusate questo è l'utente che ci naviga dentro ma perché perché ognuno ci mette un pezzo il marketing dice ma mi ci metti pure a me ma io voglio stare in on page cioè non c'è una visione e questa è di nuovo cultura non è stupidità è di nuovo rientra nella cultura e poi c'è se non percepisci il valore di quello che stai facendo non c'è voglia mica di spendere i soldi soprattutto quando i soldi sono determinanti perché magari devi cambiare il modello di business della tua azienda devi rivoluzionarlo cioè devi smettere di fare quello che fa questi piedistalli non li deve più fare mentre li sta vendendo e deve fare delle altre cose deve fare improvvisamente dei portatelefonini è pesante e allora gli dico guarda devi spendere quanto fattura un miliardo ecco devi spendere due miliardi per chiudere quella catena e fare i telefonini e quello fa eh che devo fare io ma tu sei matto poi va a finire come sappiamo e allora che cosa fa non lo fa no anche perché di solito è un manager e quindi c'era una vecchio detto questo è un po' per i più anziani no come o meno non so però no in realtà non è il mio è del mio prof un grande Franco Giacomazzi che è il mio uno dei geni del marketing riconosciuto peraltro fondatore del Dipartimento di Ingegneria e Gestionaria e Politecnica di Milano quindi di marketing il grande italiano cioè il grande genio del marketing italiano purtroppo mancato qualche anno fa che mi diceva sempre ricordati Marco che nessun manager che è una citazione sua che adesso non vi ricordo lì che è originaria ma nessun manager è mai stato licenziato per aver scelto IBM ai tempi cioè se scegli lo standard che succede un po' come oggi nel mondo del marketing e della comunicazione con gli influencer che ti frega di andare a vedere che quello c'ha 5 milioni veri o falsi di follower c'ha 5 milioni e quindi lo pago ma c'erano falsi ho capito mi straffa a guardare troppo e allora che cosa fanno spendono 2 miliardi no non fanno niente no spendono 50 mila euro e quindi va a finire così capito cioè va a finire che si vede va a finire che lo fai male e che non serve a niente perché quel film non lo va a vedere nessuno bisogna vanno a vedere questo che però è costato miliardi quell'altro no dici guarda fammelo più o meno così il sito e però poi hai capito questo è il problema e dici ma come mai sto sito non funziona a me sta cosa delle app ho provato non ho venduto niente e per forza l'hai fatta così ok è un mondo complesso una volta per pilotare un'azienda bisognava essere degli eroi lo sapete guardate la storia di Ferrari Lamborghini c'è gente che si è messa lì con le mani sporche ha creato ha fatto bisogna essere dei talenti oggi lo stesso aereo azienda è così è molto complesso cambia tutto ed è difficile anche da capire il CEO il capo dell'azienda adesso siamo nel settore aziende sto uscendo dell'azienda e passo alle persone è uno che che deve decidere cose importanti cioè deve sapere dove schiacciare i tasti non può dire fatelo voi perché ti tira giù l'aereo il marketing se lo deve dare fuori e allora cosa accade che se uno non sa scegliere dice guarda arriva un marziano gli dici la bicicletta è un mezzo fatto così con glielo racconti più o meno e lui per lui questa è una bicicletta perché gli mancava un pezzettino le ruote cioè non è un problema di risorse è come le usi queste risorse no? e quindi bisogna altrimenti abbiamo detto che beneditto ah e quando si muore e mica muorono tutti mica c'è problema sai perché c'è qualcun altro che è contento cioè quando blockbuster muore non è che è finito il mondo c'è Netflix che però e qui diventa autarchico anche se vivo in inghilterra ma faccio un po' radio londra e autarchico per l'italia il problema è che molti di questi pezzi che muoiono pensate all'industria che poi non parliamo dell'abrianza del veneto che ne ha sofferto molto ne sta soffrendo tantissimo che secondo me è pienamente dovuto alla scarsità alla scarsa conoscenza dell'evoluzione del mondo in particolare grazie al digitale e i soldi vanno fuori cioè se ne vanno proprio dal paese diventiamo più poveri perché altri si portano via fette di mercato adesso arrivano delle buone notizie allora che competenze quindi dobbiamo sviluppare come facciamo a uscire da queste situazioni dobbiamo sviluppare delle competenze dobbiamo farlo a tutti i livelli noi come imprenditori come dirigenti d'azienda come genitori che dobbiamo capire cosa devono studiare i nostri figli è una delle domande che mi arrivano più spesso e allora beh questa mi pare ovvia cioè mondo computer science e va bene lì c'è lavoro non ci sono dubbi però se a uno non piace dici perché devo fare programmatore infatti non c'è problema ci sono anche tutta una serie di altri soft skills cioè competenze non così verticali più trasversali utili che sono molto importanti per esempio il mio figlio ha 18 anni ha finito adesso quest'anno a Londra la scuola la IBI va beh insomma l'equivalente del liceo e l'università e ha delle sue le cose che gli piacciono dice guarda io sono più per la filosofia e per la politica ma servirà ho detto guarda fondamentale a prescindere da quello che farai tanto il lavoro che farai non esiste ancora quindi vai sereno non ci pensare proprio cioè non c'è ancora il lavoro che tu farai proprio non l'hanno ancora inventato quindi vai sereno quel tipo di conoscenze ti sono molti utili che acquisirai soprattutto perché ti piacciono evidente non perché quindi più umanistiche che sono utili paradossalmente proprio per comprendere le evoluzioni del rapporto tra tecnologia e umano e allora c'è dalla gestione del tempo all'imparare ad imparare banalmente seguendo il percorso dei miei figli che hanno fatto l'IB l'International Bacchero non so qualcuno di voi se lo conosce ma imparano ad imparare sin da piccoli interessante la gestione del denaro oh ma ragazzi io lo vedo anche con l'Inghilterra ma non per fare ormai sono tanti anni non sono più l'una di mire col paese ma cioè proprio non ce lo insegnano qua e infatti se andate su YouTube i nostri figli sono un po' martellati da questi YouTuber che ti spiegano come gestire i soldi come fare denaro però questi lo fanno perché se li inciucciano loro poi con le cripto spariscono e non li vedete mai più no? imparare la lettura veloce tutte cose che servono che non ce l'hanno troppo detto vabbè questo è inutile la matematica vabbè sappiamo quanto ah le negotiation skills negoziare è uno skill no? questo slide è prima pre-pandemica però adesso è comunque è diventato attuale no? un'altra cosa che proprio non ci insegnano è come applicare fare una come si dice un colloquio di lavoro e applicare applicare fare la domanda per un lavoro ce lo insegnano così dobbiamo impararlo da soli non c'è rapporto tra università di solito generally speaking come dico in inglese tra università e mondo del lavoro non c'è connessione e anche prendere decisioni è un altro skill fondamentale importante tutta la parte legata alle scienze umane alla comunicazione insomma per i nostri figli perché alla fine sono loro no? figli più o meno grandi o comunque quelli che hanno quell'età che sono lì che tra un po' diventano loro dobbiamo far qualcosa dobbiamo capire che cosa sta succedendo più che per noi noi facciamo come abbiamo sempre fatto boh magari muore un'azienda però non facciamo non finiamo proprio allora come paese come pensando anche al futuro i nostri ragazzi ecco con loro evitiamo di fare l'abbiamo sempre fatto così chi sono i nostri ragazzi e allora chi ha la fortuna io sono fortunato perché uno mi ha finito adesso è arrivato a diciottenne ed è fuori da cittimone e c'ho l'altro che adesso ne ha compiuti dieci quindi tre anni fa quattro ne aveva sei quindi ho visto proprio e per cui sono ancora connessissimo a quello che fanno i ragazzi un po' di tutte le età perché ce li ho tutte e due e allora loro vivono qui cioè dobbiamo saperlo Roblox non deve farci schifo cioè bisogna vedere che cosa dobbiamo conoscere gli eventuali rischi ma non è che dobbiamo chiuderli in casa è l'equivalente di non farli andare lì è chiuderli in casa dobbiamo sapere questo parlato dai piccoli e poi salgo su quelli po' più grandi e ce li che questo è il loro mondo non guarda più la televisione ma non la guarda proprio a mio figlio più più il grande mi diceva ieri ma ti ricordi quando io guardavo ten ten ecco loro non hanno cioè mio figlio di dieci anni non ha vissuto i dieci anni con un cartone animato perché vivono su youtube vivono in un altro modo vivono guardano altre cose imparano un mucchio di cose sanno un mucchio di cose se sono guidati se no fanno solo e basta quindi se loro fanno dobbiamo togliere il dobbiamo spiegargli che cosa si può fare vivono su videogame che però a volte possono anche avere dei vantaggi aiutano a sviluppare delle competenze degli skills fanno delle pirlate online ma le facciamo anche noi le abbiamo fatte anche noi di tutti i tipi no e vivono proprio con una forma mentis completamente diversa questa bambina scusate se è girato preme sul banner no perché pensa che sia un banner e poi dice ma non va sto dito e prova il dito perché non pensa che non vada il banner dice si è rotto il dito no e allora loro sono a casa e gli dici basta con sta roba andate a giocare fuori eh e loro ci vanno e dobbiamo occuparci anche della loro sicurezza un po' no e perché è un mondo fatto lo sapete cioè Moreno ne parla tutte le settimane io anche fishing truffe truffe romantiche ponzi virus ransom ci cadono gli adulti io ho ricevuto una storia che mi ha raccontato l'altro giorno di un signore che ci racconta io pensavo di aver scoperto una cosa ogni tanto io e Moreno si cercano sempre di andare a pescarli questi qua ma questi vivono da un'altra parte del mondo non riesci a prenderli capito cioè non sai mai dove sono allora questa volta ho detto forse c'è e poi ho scoperto di no però la storia che ha raccontato lui era incredibile ma vi assicuro che sono tanti che ci sono storie che non si raccontano cioè questo qui ha dato ha incontratato una via facebook questa qui via facebook mandava le foto ma non l'ha mai sentita né in voce né in video questa qui dopo aver detto dai sì ci dobbiamo vedere dobbiamo vivere insieme vabbè una volta c'è chi è debole però fin qui ancora ancora però a questo punto a questo punto gli ha detto che lei aveva incontrato la sua zia che le ha detto che appunto stava facendo investimenti straordinari con le cripto che i soldi si raddoppiavano questo ormai era la confidenza con questa futura convivente che non ha mai visto di persone e ha cominciato a dare i primi soldi e da lì è una solita storia glielo ha raddoppiati alla fine gli ha dato 30.000 euro e sono spariti e dico ma cavolo mi spiace ho anche fatto un prestito per quei 30.000 cioè allora io dico se un adulto che parlava anche un italiano corretto come dire non è che era proprio cioè sai quando senti un po' la persona cioè c'era si dice guarda mi vergogno cioè non era un completamente deficiente cioè io mi vergogno di quello che sto dicendo lo so però purtroppo quello che è successo mi hanno tirato dentro allora pensate ai figli no e i pericoli sono tanti telefoni che ci ascoltano abbiamo fatto dei servizi su questo come striscia su dimostrando quanto ci stanno ascoltando oggi questi dati vengono utilizzati per scopi di marketing ma anche lì dobbiamo essere padroni dobbiamo saperlo e non si può spegnere tutto dobbiamo però sapere che cosa succede due volte l'ho messo ah questo qui bambolina che l'abbiamo fatto vedere su striscia bambolina di cui ha diventato la vendita in Germania di questa Kaila perché era hackerabile facilmente arrivavano entravano dentro ascoltavano i bambini gli facciano dicendo tu hai regalato una bambola a un tuo figlio cioè dobbiamo e non possiamo non comprare la bambola o non dargli lo smartphone dobbiamo sapere quindi ci tocca come imprenditori come genitori eccetera tenere conto di questo e dobbiamo sia noi sia i nostri figli imparare in continuazione cioè continuare a imparare non si smette mai dobbiamo non possiamo essere pigri dobbiamo continuare a studiare ma dove studio andate anche voi su youtube cioè voi voi sapete dico andiamo tutti su youtube no e navighiamo insieme ai nostri figli usiamo vediamo cosa fanno non lasciamoli da soli online imparare a usare i social voi dite ah perché a me me lo devi dire eh ogni tanto uno non sa bene pubblica magari uno ha paura della privacy in altre cose e poi là dice sì mi rubano tutto i miei dati e poi sei tu che dici sono qua sono con lui sono facendo qua vado qui mi pubblicano le foto giocare un po' con loro è noia lo so anch'io che c'è una fatica a giocare però almeno capisci i meccanismi cosa succede cosa si può fare fenomeni bullismo avvengono facilmente all'interno dei giochi mio figlio piccolo una forma di bullismo che uno non ci pensa è che i ragazzi lo minacciavano in un gioco in un fortnite degli amici ma degli amichetti stupidamente non è che è un bullato o piuttosto che non è che erano i suoi nemici a volte si scambiano i ruoli a quell'età no? quindi a volte mi fanno gli stupidotti come abbiamo fatto anche noi solo con una forma di stupidaggine è ti segnaliamo a fortnite che hai usato dei cheat cioè dei trucchi all'interno del coso in modo che ti blocchino l'account lui tragedia perché se ti blocca l'account a quell'età lì dove hai raccolto le due monetine è come dire a me mi tolgono a me tolgono una roba il numero di telefono è come mi trovano gli altri ecco è uguale no? è imparare anche noi a non farsi fregare online perché sennò figurati cosa succede ai nostri figli perché c'è un messaggio che arriva sempre un po' sbagliato ed è sempre lì e io combatto per eradicarlo ma non ce la farò mai però non smetto di combattere come i chirurghi che operano anche quando sanno che il paziente non ce la può fare spiegare che internet fa parte del mondo reale perché quante volte lo sentite chiamare mondo virtuale ma non è virtuale c'è la differenza tra il mondo digitale e quello fisico non è virtuale quando io insulto qualcuno online di là c'è uno non è virtuale i soldi che circolano sono reali ci sono persone reali dall'altra parte è virtuale quando entro in un videogame senza nessuno connesso sparo ad un'automobile quello esplode uccido qualcuno quello muore è un avatar perché se c'è una persona dietro ci rimane male c'è un caso di un ragazzo americano ovviamente sicuramente malseguito in difficoltà eccetera che quando il suo amico è morto dentro GTA ha chiamato la polizia e questo fa capire quanto scollegamento ci sia dalla realtà c'è stato un momento in cui mio figlio che ha provato l'oculus di sei anni poi io cerco sempre di gestire è come la fatica di tutti noi genitori non siamo perfetti mio figlio che eravamo in Liguria passavamo fa wow c'era proprio il mare perfetto bellissimo è come è come dentro l'oculus io ho detto no amore è il contrario cioè è questo quello vero è quell'altro capite c'è un po' questo e soprattutto tutto quello che facciamo su internet rimane su internet se faccio un danno in un videogame avevo già detto secondo l'istat un ragazzo su due tra gli undici e sette anni è rimasto vittima di bullismo e di questi uno su cinque l'ha subito attraverso internet da un'indagine il telefono azzurro e quasi un ragazzo su dieci di quelli intervistati richiara per aver diffuso informazioni video che omigliano qualcuno perché non se ne accorgono e quindi abbiamo detto cosa c'è di positivo non dobbiamo parlare ma allora prima di tutto io credo che io ho alzato solo la palla non ho fatto altro non potevo fare altro che alzare la palla però adesso sappiamo che c'è una palla da mettere in porta più o meno dove e poi ognuno di noi magari gli viene voglia un po' più del normale di dire aspetta che forse mette un po' di testa in quel mondo secondo me il lato positivo di tutto questo spero che sia quello e poi come dire adesso insomma qualcosa di positivo lo dico che non è mai troppo tardi eh che bisogna essere proprio positivi bisogna crederci eh proprio eh bisogna crederci buttarsi un po' mentre gli altri non lo fanno e soprattutto anche se siamo un po' in ritardo parlo anche un po' come Italia magari eh all'ultimo eh va bene grazie ovation grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti